Ciao a tutti e benvenuti, non l'ho fatto questa mattina, mi scuso, lo faccio oggi pomeriggio, lo faccio adesso, quello che è successo ieri, guardate, molto vicino a dove mi trovo in questo momento, al supermercato di Milano Fiori, si trova lì, l'ex euromercato, oggi Carrefour, quello che è successo al cassiere del supermercato, ucciso da un folle purtroppo, insomma, folle purtroppo è la descrizione letterale dei suoi problemi e non un epiteto di carattere negativo, è quello che avrebbe anche potuto succedere a Pablo Mari, questo ragazzone con cui abbiamo giocato a calcio sabato scorso, Milam Monza, Pablo Mari, i suoi duelli con Norighi, parlavamo di calcio, parlavamo di sport, questo ragazzone aveva il figlio di quattro anni sul carrello della spesa e ha sentito un crampo alla schiena, quel crampo alla schiena non era coltellata, la corsa in ospedale, adesso tre mesi di assenza, per carità, spiace per il Monza che non abbia il suo difensorone centrale per tre mesi, ma rispetto a quello che aveva potuto cadere, va benissimo così, è stato Massimo Tarantino, ex giocatore dell'Inter, del Napoli, del Bologna, a disarmare e fermare l'individuo che stava accoltellando la gente in un giovedì pomeriggio di spesa, cose pessime, cose drammatiche, normale che il Monza si senta sotto shock e quindi che non giochi lunedì contro il Bologna perché il racconto di quello che è accaduto a Pablo Mari e alla sua famiglia non può non aver toccato persone che gli vogliono bene, che lavorano, vivono, giocano tutti i giorni con lui. Un abbraccio forte a Pablo Mari e nel dramma, nell'incubo, nello spavento, nella preoccupazione è accaduta una cosa grave, terribile, ma infinitamente meno grave di quello che avrebbe potuto accadere alla schiena di Pablo Mari e al suo corpo e ai suoi organi vitali. Un abbraccio commosso e sentito e partecipe anche e soprattutto alla famiglia del Cassiero, una persona che stava lavorando e che oggi non è più. La vita è dura ragazzi, la vita è dura e non dobbiamo ricordarci, dobbiamo ricordarci sempre, non dobbiamo dimenticarci mai che abbiamo la fortuna di parlare di calcio, di pallone, di sport. È una cosa che dobbiamo tenerci stretta e proteggere il più possibile, poi per carità i risultati vanno e vengono, le opinioni sono coincidenti o divergenti, ma teniamoci stretta questa cosa meravigliosa che è parlare di calcio rispetto a tante asperità e a tanti drammi quotidiani del nostro tempo e dei nostri anni. Si avvicina a Torino Mila, le due notizie dal campo di oggi sono Brahim Diaz in gruppo con la squadra e Sanabria che ha lavorato a parte per un problema al soleo, che è un problema che abbiamo conosciuto anche noi spesso e in più situazioni per più giocatori nel corso di questa stagione. Il Torino in attacco ha i problemi che noi abbiamo ad esempio sulla fascia destra, quindi sono convinto in ogni caso che i 22 che andranno in campo domenica sera daranno vita ad una partita tosta, intensa, lottata, gagliarda, su questo non c'è dubbio, abbiamo una chiamata importante da parte del calendario, ma sarà così anche per le prossime partite, perché col Salisburgo, con lo Spezia, con la Cremonese, con la Fiorentina non ci sono passeggiate che ci aspettano dietro l'angolo, quindi saranno tutte partite che saremo chiamati da affrontare nel migliore dei modi. C'è questa dichiarazione di oggi alla presentazione del bilancio dell'Inter e della Di Antonello, siamo pronti a fare con il Milan ma siamo pronti a fare anche da soli, ogni scenario è aperto e queste dichiarazioni sono l'assoluta verità. Per tutti noi è così, ve l'ho sempre detto, l'importante è che la Milano del calcio, la Milano dello sport, la Milano fiore all'occhiello di decenni e decenni di vita della metropoli riesca a produrre in questa temperie del calcio, in questa turbolenza del calcio in cui bisogna avere soldi, 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 il più possibile ricavi da impianti moderni, da strutture che consentano ai club di non andare incontro ogni anno a rovinose perite di bilancio. Poi vedremo quello che accadrà, se ci sarà uno stadio una settimana del Milan o una settimana dell'Inter o uno stadio sempre del Milan e sempre dell'Inter, in questo caso due stati, vedremo. In ogni caso mi sembra che ci siano aperture molto importanti, realistiche, doverose, significative da parte del sindaco di Milano, Beppe Sala, negli ultimi tempi per cui sia tifosi milanisti che tifosi interisti si augurano di entrare nella fase decisiva, so quanto per orgoglio di bandiera e i tifosi del Milan vogliono giocare nello stadio del Milan e i tifosi dell'Inter vogliono giocare nello stadio dell'Inter, per carità, e questo naturalmente lo possono decidere Milano e Inter ma fino a un certo punto, naturalmente lo decide il mercato, lo decidono le normative e quindi vedremo che cosa accadrà. C'è questa frase di Massimiliano Allegri alla vigilia della prossima partita della Juventus che ricorda un po' i cinque titolari, ricorderete quando il mister Bianconero disse vorrei vedere Milano e Inter senza cinque titolari cosa succede e poi è successo, quindi eravamo più o meno, io non so quanti titolari abbiamo in meno ad ogni partita ma probabilmente avevamo cinque titolari in meno che quando abbiamo battuto la Juventus 2 a zero, poi vedremo quanti ne avrà l'Inter, se ne a Torino. Io sono convinto che si tratti di frasi più degli intercalari che delle cattiverie, così delle considerazioni più che altro per difendersi un po' dalle critiche generali, però quella di oggi ci sono state squadre che sono state otto anni senza giocare la Champions, boom, ancora cinque titolari in meno e otto anni senza Champions, ancora, va bene, siamo stati noi del Milan otto anni senza giocare la Champions, io penso lo dica anche tecnicamente per la verità, tecnicamente per la verità, per la verità, abbiamo giocato in Champions nel 2014, siamo tornati nel 2021 a giocare una partita di Champions, per cui tecnicamente sono sette anni. Ci sono state squadre che sono state otto anni senza giocare la Champions, spero per Mister Allegri che non succeda anche questa volta per la Juventus come è successo per i cinque titolari, no, non sarà assolutamente così, la Juventus è un grandissimo club e si riprenderà, e capisco il desiderio di Massimiliano Allegri di minimizzare, di distogliere l'attenzione, di parlare d'altro, però probabilmente sono proprio queste le cose che questo tentativo di normalizzare la situazione a livello mediatico, a livello dialettico, a livello comunicativo, che non fanno arrabbiare i tifosi del Milan o i tifosi di chissà chi, ma fanno a volte arrabbiare i tifosi del Juventus, i tifosi del Juventus sono incavolati oggi perché erano favoriti per lo Scudetto, convinti di avere una squadra fortissima, in questo momento in campionato sono fuori dalle prime quattro, anche se sono convinto che rientreranno, e sono fuori dalla Champions League, ed è questo il tema, non chi non ha giocato la Champions League per otto anni, anche la Juventus a cavallo tra gli anni Ottanta e gli anni Novanta è stata tanti tanti anni senza giocare la Champions, però non è che se c'è un problema a Milano di Milano Inter si va a parlare di quando la Juventus non ha giocato per sette, otto, nove anni, non ricordo quanto, tra l'età tra gli anni Ottanta e anni Novanta la Coppa dei Campioni, come si chiamava allora l'attuale la Champions League, quindi insomma va bene, adesso però parliamo di adesso, parliamo di adesso e il Milan si giocherà tutte le sue scienco a Salisburgo per passare agli ottavi di finale, continuerà a lottare fino all'ultima giornata per cercare di avere la miglior classifica possibile alla fine di questo campionato, anche se ci sono stati o sette o otto anni senza giocare la Champions, l'importante è che siano le spalle, ecco queste sono le cose importanti, più che poi i cicli vanno e vengono per tutti, l'importante però è essersi riusciti a lasciare alle spalle un arco temporale non positivo così importante, ciao a tutti, ci vediamo e ci sentiamo domani sia prima che dopo la conferenza stampa del nostro allenatore a Milano, la vigilia di Torino-Milan, ciao a tutti e domani.